Ad insospettire i carabinieri era stato un continuo via vai attorno al murales del parco del Pionta, dentro al quale è stato poi scoperto un buco per nascondere la droga. I militari dell'arma avevano osservato ai lunghi movimenti di due ragazzi all'interno dell'area verde cittadina, assistendo ieri pomeriggio alla cessione di quella che poteva sembrare una dose di droga ad una ragazza. A quel punto sono entrati in azione. I due pusher hanno cercato di darsi alla fuga, ma i carabinieri li hanno bloccati ed arrestati. Sono così scattate le manette per un trentenne e un vetottenne, entrambi cittadini nigeriani accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi con cocaina ed hashish un po' addosso ed altra invece nascosta in un affratto di un muro mimetizzato in un murale scolorato. I due pusher avevano infatti ingegnosamente modificato le lettere della scritta per poterne creare così dei rifugi invisibili per lo stupefacente. I militari hanno trovato decine di dosi, sono stati sequestrati complessivamente 7 grammi di eroina, 5 di cocaina ed infine 8 di hashish. Sequestrate anche alcune banconote, 60 euro in tutto, ritenute il provento delle ultimissime consegne. Gli arrestati giudicati questa mattina dal Tribunale di Arezzo con rito direttissimo sono stati condannati a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa. Il giudice ha infine anche rilasciato il nulla osta all'espulsione dal territorio nazionale.